Dopo un esordio da record, aumentano le aspettative in vista della seconda serata del Festival di Sanremo. Mercoledì 7 febbraio si esibiscono 15 dei 30 cantanti in gara, presentati dai colleghi che riposano. Chi è salito tardi sul palco la prima sera inizierà presto e alla fine sarà stilata una nuova classifica. A giudicare questa volta sono Televoto e Radio. Co-conduttrice della seconda serata è Giorgia, che festeggia i 30 anni di Epoi, la canzone presentata proprio al Festival di Sanremo. Tra gli ospiti, l'Ariston riabbraccia Giovanni Allevi, che torna a suonare il pianoforte sul palco più ambito d'Italia dopo due anni di assenza e di cure per via di un mieloma multiplo. Sul palco, inoltre, sarà testimonial della sua battaglia. Al Festival, anche John Travolta, già Sanremo nel 2006, Leo Gasman è avvolto del film su Franco Califano, il cast di Marefuori e la nuova orchestra di Santa Malera per i 70 anni di Romagna Mia. Dopo l'Azza, sul palco di Piazza Colombo, si esibisce Rosa Calicalla, mentre ci pensa a Bob Sinclair ad animare la festa sulla nava romeggiata all'argo di Sanremo. Insomma, siete pronti ad alzarvi dal divano e strafinarvi con le canzoni del Festival? Ciao!